Francie, tira su! Ogni volta ti nascondi dietro una maschera fatta da altri non ti dico quella che addosso ma quella che non ti fa ester te stesso tutto il giorno su TikTok stai un altro video posterai per far vedere quanto sei buono sulle notte del grande Albano quando il sole tornerà dagli e forza, spegni tutto dalle stories al trash più brutto piglia sto polso e scendi giù tira fuori la grinta che è il più dagli e carca e tira sta presa altri cinque chili oltre la resa qui non pervi essere un piccio ripieno i limiti si superano in un baleno dagli e forza, spingi ste braccia dagli e forza, spegni sto muro dagli e corri che tocca a te vi aspettiamo al vostro 33 dai e dai e dai e dai e tira giù grazie a tutti